ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito adidas ho effettuato quest'ordine nel periodo in cui c'era il black friday quindi c'erano già molti sconti sul sito e a quelli si sommava un codice sconto del 20 per cento reperibile online che permetteva quindi di scalare ulteriormente il prezzo quindi ho acquistato dei prodotti a prezzi davvero vantaggiosi e devo dire che spesso adidas fa queste promozioni quindi vi consiglio di visionare spesso il sito quando ci sono degli eventi tipo il black friday o comunque in generale nei periodi di sconti le spedizioni sono molto rapide infatti hanno impiegato a giungere a destinazione circa 5 giorni 4-5 giorni dal momento dell'acquisto si tratta di due ordini distinti e per questo che vedete due pacchetti ma ho aspettato che mi arrivassero entrambi in quanto prima ho ordinato questo poi però ho visto in promozione un altro prodotto e ho deciso di fare un secondo ordine quindi adesso procediamo all'apertura dei due pacchi come vedete sul pacco c'è il marchio adidas adidas.com c'è la linguetta qui per l'apertura facilitata qui c'è la fattura e andiamo ad estrarre i prodotti ah non vi ho detto che il corriere usato da adidas è il corriere ups quindi in questo primo pacco ci sono una felpa che è costata all'incirca 20 euro che è questa ed una maglietta a maniche lunghe che è costata all'incirca 16 euro quindi il totale per questi due prodotti è di 36 euro e qualche centesimo ma andiamo subito ad aprire il secondo pacchetto anche qui fattura ed ecco qui il secondo pacchetto contiene una giacca adidas che in negozi ha solitamente un costo di 60 70 euro mentre io l'ho pagata solamente 25 euro quindi davvero regalata ok adesso andiamo a vedere i prodotti da vicino apriamo prima la felpa ok cartellino adidas prodotto trefoil crew qui etichetta adidas e taglia è una taglia italiana 42 made in cina la taglia è corretta in quanto avevo già provato questi prodotti in negozio prima di acquistarli quindi sono sicura del fatto che mi stiano bene quindi vi consiglio di prendere la taglia che indossate di solito o anche qualcosina in meno adidas adidas vesti abbastanza largo come marchio ecco la felpa molto semplice l'ho presa per via del colore un colore molto particolare è diciamo un rosa arancio fluo con invece questo quadrato in contrasto rosso e trovo questo accostamento di colori molto particolare e per questo l'ho voluta prendere per avere qualcosa di diverso sul retro è liscia questo quadrato è molto particolare in quanto è diciamo vellutato mentre qui la stampa è una semplice stampa bianca qui invece il materiale è vellutato non so se rende dal video vediamo i materiali di composizione in italiano ecco qui si tratta di 100% poliestere ok questo era il primo prodotto per 20 euro mi ritengo soddisfatta e andiamo avanti con il secondo prodotto t-shirt a maniche lunghe in colore verde verde chiaro e qui le tipiche tre strisce adidas in colore verde scuro cartellino etichetta adidas e anche di questa taglia 42 ok questa è semplicissima c'è il logo adidas con il trifoglio qui sul cuore sul retro è liscia e poi c'è il colletto in colore bianco a contrasto che trovo molto carino la vestibilità è davvero ottima perché l'ho provata in negozio ovviamente sulle maniche agli elastici mentre sulla parte bassa non c'è alcun elastico andiamo anche qui a vedere i materiali ok ecco qui la lingua italiana primo tessuto 93% cotone e 7% elastene quindi questa a differenza della felpa è in cotone infatti è molto più morbida ed è davvero bella ve la consiglio questa quindi prezzo di questa maglia 16 euro con gli sconti ottimo prezzo anche per questa si trova nei negozi sui 30-35 euro ed infine abbiamo la nostra giacca anche qui cartellino adidas etichetta e taglia sempre 42 quindi come potete notare per tutti i capi ho preso la stessa taglia quindi hanno identica vestibilità ho preso il colore rosso in quanto in offerta c'era questa ma avrei gradito anche il colore blu o quello verde quello verde lo trovo bellissimo ma non era presente sul sito la particolarità di questa giacca è che ha anche delle scritte adidas qui lucide su tutta la tuta anche sul retro è molto particolare da lontano nemmeno si vedono comunque queste scritte quindi sono delicate e le trovo davvero belle non sono troppo evidenti davanti è dotata di cerniera due cerniere sulle tasche frontalmente qui ovviamente marchio adidas con trifoglio e sulle maniche le tre strisce adidas in bianco qui elastico sul collo elastico in basso ed elastico sulle maniche sul retro è liscia a parte le scritte adidas di cui vi parlavo vediamo i materiali di questa eccoli qui in italiano c'è scritto 83% poliestere 14% poliestere riciclato 3% elastene quindi c'è anche una quantità di poliestere riciclato una cosa buona da parte di adidas ok prezzo pagato per questa giacca 25 euro a parer mio regalata ok ragazzi ricapitolando rimetto qui i tre prodotti acquistati quindi abbiamo detto 25 euro per la giacca 20 per la felpa e 16 per la maglietta prezzi davvero bassi per questi tre capi quindi vi consiglio di dare sempre un'occhiata al sito adidas perché fa sempre promozioni nei periodi di festa o comunque di sconti io spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina delle notifiche accanto al pulsante iscriviti così facendo resterete aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno riguardanti sia adidas che molti altri siti di acquisti online vi ricordo inoltre di seguirci su tutti i nostri social soprattutto su instagram dove ci chiamiamo real-unboxing e dove possiamo puntualmente le foto riguardanti i nostri unboxing bene ragazzi per il video di oggi è tutto io vi saluto alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.